Gosto molto da tatuagge perché realizza la mia vita, gosto di fare tatuagge perché realizza la mia personalità. Cheghi qui nel studio perché connessi io Gustavo che frequenta la mia o messa l'accademia qui in Fortaleza. La prima idea moderna qui in Fortaleza la prima tatuaggia fu un maori che nel si brazzo a giù. L'attendimento fu perfetto e gustei molto del lavoro davvero che è la moglie che fa la mia tatuaggia. Il lavoro da qui è ottimo e fai molto igiene e gente professionale. No, in realtà, mi piace fare una tatuaggia perché mi piace molto del disegno, del disegno nella mia pelle e è un effetto che rappresenta nella società per differenziare da un'altra persona, da un'altra persona che io stesso. Tenho due lavori differenti perché questa qui è il japonese, che evidenzia la cultura del Japone. Ed essere qui è differente perché è un maori che evidenzia più la cultura di un guerriero, di un tribal. Ciao! Sous-titrage ST' 501